Prosegue il buon andamento delle esportazioni piacentine, che nei primi nove mesi dell'anno hanno fatto segnare un incremento dell'8,7%, attestandosi in valore a oltre 4 miliardi e 700 milioni di euro. Ad evidenziarlo sono le analisi dell'Ufficio Studi della Camera di Commercio dell'Emilia sui dati ISTAT, che indicano una crescita significativa in tutti i continenti. In termini assoluti, è stata l'Europa a registrare l'aumento più significativo, di quasi 250 milioni, corrispondenti al 7,6%. Si tratta di un dato particolarmente significativo, spiega il Vicepresidente Vicario della Camera di Commercio dell'Emilia, il piacentino Filippo Cella, soprattutto se consideriamo il fatto che il vecchio continente rappresenta da solo il 74% delle esportazioni piacentine. In questo contesto, prosegue Cella, si colloca lo straordinario risultato relativo alla Germania. Sul mercato tedesco, infatti, le esportazioni sono aumentate del 34%, portandosi oltre 700 milioni in valore e facendo salire al 15% la quota delle esportazioni verso la Germania sul totale dell'exporto della nostra provincia. La Germania ora tallona da vicino la Francia, che mantiene il primo posto nella graduatoria dei paesi maggiori importatori di made in Piacenza. Sono valori, conclude Cella, che attestano in modo chiaro la capacità competitiva delle nostre imprese, ulteriormente rafforzata da investimenti, soprattutto in ricerca e innovazione, e che si esprime tanto su mercati europei quanto in altri continenti. Buoni risultati, infatti, sono giunti anche dall'Asia, più 5,8%, e ancora più rilevanti le crescite su Africa, 31,3%, e America, con un aumento delle esportazioni piacentine del 16,6%. A trainare l'export locale sono il tessile e abbigliamento, e poi alimentari e bevande. Grazie. Grazie.